Un'intesa di massima che dovrà ancora essere ratificata, un incontro proficuo per alcuni punti, ma l'avvertenza continua. Il resoconto del tavolo di ieri tra lavoratori e sindacati e vertici della tua è stato fatto da Patrizio Gobeo, segretario generale della Filt CGL Chieti Pescara. Non si può dire che è andata male in quanto riteniamo soddisfacenti l'apertura fatta dall'azienda per le assunzioni pari a 20 unità. Bene anche la questione del personale manutentivo che da anni riscontrava una carenza, però ci sono ancora notevoli punti che vanno ancora attenzionati. Voi avete chiesto all'azienda di tutelarvi alla luce delle ultime aggressioni. Da questo punto di vista cosa vi è stato risposto? Anche qui abbiamo avuto una piacevole risposta in quanto la società sembrerebbe che si sia attivata attraverso un processo con la protezione civile, di poter intervenire loro direttamente nel momento in cui ci sarà una segnalazione mediante un pulsante a bordo del mezzo. Ovvio, questo sappiamo perfettamente che non avverrà in tempi stretti, però è un primo passo. Metterà in contatto la protezione civile e a seconda del territorio di riferimento, gli stessi faranno intervenire il corpo di polizia che si troveranno in zona. Noi ci auspichiamo che si risolva in tempi rapidi perché come avete potuto osservare in quest'ultimo periodo siamo stati aggrediti in quattro circostanze e riteniamo che un deterrente vada attuato. Noi abbiamo anche proposto nuovamente di farci dare un supporto da quel personale in idoneo che anche in forma preventiva può essere messo a bordo dell'autobus e ci permetterebbe di essere più sicuri. Grazie